Ciao a tutti! Oggi prepareremo la scarola con uvette e pinoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono scarola o indiviariccia, aglio, olio evo, uva sultanina ammollata, pinoli, alici, teperoncino e sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio. Aggiungere le alici e il peperoncino. Ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la scarola e cuocere per 12 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'uva sultanina che abbiamo ammollata in acqua calda, i pinoli e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. La scarola è pronta, serviamola. Scarola con uvette e pinoli. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.